Per il 2019-2020 l'organico del personale docente non subirà riduzioni, anzi registrerà persino un lieve incremento, nonostante che complessivamente sia previsto un calo della popolazione scolastica nella misura di quasi 70.000 alunni. L'organico del potenziamento sul quale c'era anche qualche dubbio è stato confermato in toto, ma i sindacati non sono ugualmente molto soddisfatti. In primo piano infatti c'è la questione del tempo pieno. I sindacati scuola della Sicilia sostengono che alle scuole dell'isola sono stati assegnati pochi posti di tempo pieno. Va detto che a livello nazionale il MIUR ha previsto per il momento 261 posti per la Sicilia. Si tratta esattamente del 13% dei 2.000 posti istituiti con la legge di bilancio 2019. La Campania ne ha avuti di più, 276 in tutto, ma ha un organico di molto superiore. La Lombardia, con una popolazione scolastica ben più elevata di quella della Sicilia e con un organico complessivo di 92.000 posti contro i 59.000 dell'isola, si ferma a 262 cattedre di tempo pieno. Nel complesso, nella distribuzione dei posti, il Ministero ha tentato di sostenere le scuole del Sud, alle quali è stato assegnato il 43% dei posti, mentre al Nord ne sono stati dati poco più del 36%. L'organico del Nord, però è bene ricordarlo, è di circa 250.000 posti, quello del Sud, non arriva a 229.000. Il fatto è che comunque questa misura era stata presentata come uno strumento per affrontare anche il problema del rientro al Sud dei tanti docenti della Sicilia e di altre regioni meridionali, ma è del tutto evidente che con questi numeri sarà molto difficile dare una soluzione soddisfacente al fenomeno. Il problema, come potete immaginare, riguarda, concerne molti insegnanti, molti nostri lettori, sul tema noi ritorneremo ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Commentate, scriveteci, inviateci le vostre esperienze, continuate a leggerci sia sul nostro canale YouTube e sia sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it Grazie. 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 Grazie.